Mi è stata tolta la parola perché non sono capogruppo, così il consigliere di Fratelli d'Italia, tutti i pretrantoni, abbandona l'aula e dichiara pubblicamente in un video il suo disappunto contro le modalità di applicazione del regolamento da parte del presidente del Consiglio Comunale, scelta che ha fatto uscire dall'aula tutta l'opposizione. Dal canto suo il presidente del Consiglio Giovanni Magri risponde di aver soltanto applicato il regolamento come prevede il comma 2 dell'articolo 31 sullo svolgimento della discussione in aula, appunto che prevede che debba intervenire il consigliere capogruppo e solo per fatti nuovi il consigliere dello stesso gruppo. La parte interpretativa del fatto nuovo è stata considerata, secondo Petrantoni, in maniera restrittiva. Sono appena uscito dall'aula consigliare perché per la prima volta dopo 8 anni in cui faccio il consigliere comunale mi è stata negata la possibilità di intervenire in quanto il presidente del Consiglio, il presidente del Movimento 5 Stelle, giusto ricordarlo perché è importante, mi ha negato la possibilità di intervenire perché io non sono un capogruppo. E secondo il suo regolamento, perché nel regolamento consigliare questo non c'è scritto, il sottoscritto poteva ovviamente intervenire e lui invece interpreta, tra l'altro non curante di ciò che ha detto il segretario generale, mi nega la possibilità di poter intervenire. Perché secondo lui è importante ricordarlo, oggi in aula consigliare c'era la relazione del sindaco e il presidente del Consiglio, Magri, decide che il sottoscritto non deve intervenire. Forse perché, non lo so, poteva essere scomodo un intervento perché così come hanno fatto gli altri consiglieri di opposizione avrei criticato l'operato del sindaco. Bene, ne prendo atto. Bene, ne prendo atto.